Finora Napoli ha lasciato molto giocare, Naieli Repetti va in velocità, la numero 11 che guadagna in questo momento l'ingresso in area di rigore. Attenzione al Napoli, pallone in mezzo, ora è da sola, la formazione avversaria ed eccolo! Il gol di Del Freo al 29esimo minuto, San Marino Academy 0, Napoli 1 ha segnato Del Freo al 29esimo minuto e dunque si sblocca il risultato tra San Marino Academy e Napoli, ha segnato il Napoli, ha segnato Del Freo Nicole per lei, quarto centro nel campionato in questo campionato femminile e giovanile primavera 1, si sblocca la gara ma i complimenti vanno proprio fatti a Naieli Repetti vanno anche a complimentarsi le compagne con la 11 che ha fatto tutto perfetto entrando in area di rigore poi il servizio per Del Freo che è stata lasciata tutta sola, praticamente rigore in movimento per la numero...